benissimo siamo dal vivo manca un minuto all'inizio se volete condividerla con le persone e gli amici che sapete possa essere utile questa nuova diretta della Roland DG Academy fate pure eccomi grazie a tutti grazie a tutti siamo partiti e già iniziano ad arrivare le prime domande questo era quello che volevo quindi tanta roba da da vedere da parlare vedremo funzionalità appunto diversa works come utilizzarla al meglio quindi un piccolo overview e poi man mano tutto quello che serve tra le domande metto già il primo commento di Riccardo che dice se ha un vs 640 ci sono aggiornamenti questo lo facciamo vedere subito massimiliano sei al posto giusto perché proprio sulla pagina della Roland DG Academy lo condivisa un po' come video party anche sulla mia su Roland DG e sugli altri canali dove potete seguire tutto Pierpaolo ti saluto tu hai vinto il premio come l'artigiano tecnologico più assiduo frequentatore delle dirette sei un grande ok bene argomento bello carico tanta tanta roba da vedere quindi parliamo appunto di VersaWorks 6.6.3 poi ci sono tutte le versioni aggiornamenti mamma mia anche qui un una quantità enorme di dati da da andare a vedere allora mettiamo pure una grafica di sottofondo più pulita perfetto e ingrandiamo lo schermo così potete già vedere un po' meglio tutto quanto nel mentre metto pure i commenti sotto visione nel mio secondo monitor ok allora VersaWorks la cosa molto interessante che lavora per una quantità enorme di periferiche Roland questo è da da quando è nato praticamente il che significa che nei vari passaggi non avete dovuto soffrire cambi di software di RIP anche se si usano inchiostri diversi gli Ecosolmax i TrueVis i TrueInc eccetera ecco in ogni caso ti aiuta a realizzare tutte quelle belle applicazioni che fai normalmente col tuo plotter Roland quali sono i plotter quindi rispondiamo direttamente già a Riccardo questa è la lista dei plotter ai quali logicamente come aggiunta adesso la LEC 2.300 e eh tanti altri verranno aggiunti man mano eh sulle nuove versioni aggiornabili gratuitamente come sempre di VersaWorks questo è molto importante eh Florindo mi chiede mi fa una domanda eh abbastanza interessante eh in effetti eh se tu installi vale a dire VersaWorks lo puoi scaricare ti chiederà un numero seriale però nessuno ti vieta di installarlo e eh caso mai questo ora vediamo un po' se ci sono le domande perché è un trucco un po' articolato vi faccio vedere come utilizzarlo anche senza le periferiche installate quindi questo può essere interessante sia per te Florindo che per altri amici eh bene sicuramente avete preso nota e ora le novità della versione 6 ora non ve le sto a spippettare tutte quante però la prima è quella dell'interfaccia molto bella pulita minimale più chiara l'uso degli effetti speciali per una riproduzione accurata su quelli che erano le cose un po' che davano fastidio nella nei rip tipo le ombre le trasparenze ecco eh tutto quel lavoro oggi va a essere eh lavorato meglio e con più tranquillità usando appunto il motore a 64 bit nativi che è quello di Harley Quinn quindi un motore ormai mamma mia c'ha c'ha una bella storia dietro le spalle eh che riesce a leggere il pdf natio eh in maniera molto pulita eh abbiamo delle funzioni che vedremo ma poi andremo ad approfondire in un'altra sessione quella dell'easy eh printer color matching ossia di effettuare una eh ottimizzazione cromatica tra diverse macchine o il cambiamento che avviene tra una vecchia macchina una nuova ecco per avere una linearizzazione anche su questo cinque code e poi eh la generazione dei degli colori speciali che già abbiamo visto diciamo in quello che era la diretta destinata agli effetti speciali UV che abbiamo fatto qualche giorno fa quindi non sto adesso a farvi vedere eh queste voci eh in quanto mi piaceva vederle insieme eh proprio sul rip quindi andando a capire quali sono i valori aggiunti sia per le macchine nuove come Natruvis VG2 o una verso VLF2 ma anche su quelle un po' più vecchiotte bene un'occhiata ai commenti eh allora sulla eh c'è Marco che mi chiede se si può installare il VersaWorks su una macchina più datata ecco non su tutte nel senso che eh tu hai un SP540V l'SP540V vado a vederlo pure io perché ricordarseli tutte a memoria no eh la versione I è quella eh che puoi aggiornare appunto con il nuovo VersaWorks ok benissimo quindi Marco mi dispiace eh d'altra parte la V mi sa che era proprio vecchiotta come come macchina eh non era ehm recente ecco c'ha qualche attento benissimo allora andiamo a vedere l'interfaccia e eh iniziamo a vederla con quegli aspetti appunto che volevo raccontarvi e man mano vado a vedere i commenti per approfondire eventualmente alcuni argomenti allora la prima la prima è l'uso delle cinque code quindi abbiamo una coda A B C D E ora a che servono queste code c'è chi le usa bene c'è chi non gliene frega niente ne usa una usa la e lì finisce la storia però il consiglio mio è quello di iniziare a usare le code perché andando sulle impostazioni di coda eh tu per ogni coda puoi andare a impostare determinate cose memorizzarle in modo che una lavorazione specifica mettiamo che fai tanti adesivi che eh devono andare in vetrofania e quindi fai una stampa in speculare al quale fai il passaggio del bianco eh o meglio fai un'eliminazione dopo per poi rimettere le macchine a quei crocini mettiamo questo tipo di lavorazione a questo punto puoi andare a prendere una coda e andare ad applicare tutte le impostazioni che servono per velocizzare quelle che erano normalmente le impostazioni che avresti dovuto fare per quel tipo di lavorazione eh purtroppo non si può eh rinominare il nome coda a coda b coda c ma quello che possiamo fare in più dal momento in cui cambiamo le impostazioni che significa se io per esempio metto eh cinque copie ok nelle impostazioni della coda a e e metto cinquanta per cento ok questa è un'impostazione legata al layout bene se faccio ok sto salvando le impostazioni su quella che è la base in questo caso sulla lef trecento bene cosa significa che se io vado ad aggiungere un lavoro alla coda a in questo caso il lavoro qualsiasi esso sia andiamo a prendere uno eh qua sulla cartella dove c'è un po di lavori misti messi qua quello della mattonella ecco qua prende una mattonella ceramica apri automaticamente eh l'apertura della lavorazione la porterà a cinque copie ridotta del cinquanta per cento se l'operazione quindi l'apertura la faccio sulla coda b logicamente la stessa mattonella eh non avrà quelle impostazioni che avevo applicate nella coda a quindi sarà al cento per cento una singola copia ora l'abbiamo visto sul layout in effetti possiamo applicarlo su mille cose diverse e questo è molto importante tra l'altro un'altra cosa che eh almeno non viene sfruttata tanto è il fatto di poter salvare con nome le impostazioni che andiamo a fare quindi se qua metto cinque copie al cinquanta per cento io sto salvando questa impostazione qui la leggerà qua sopra capite questo è molto molto comodo molto interessante anche qui può essere utile andarla a sfruttare in questa maniera bene eh logicamente io posso salvare e aprire eventuali altre code già memorizzate come impostazioni di stampa ok eh queste tra le novità che stavamo in qualche maniera discutendo eh bene avete domande da da fare in merito a questo le code le utilizzate o no mi piacerebbe ricevere una risposta vedere un attimo un po' di interazione ragazzi vedo pure sui commenti del video party eccolo qua ho eh i commenti me li ha dato sul Natale me li ha scritti sul video party eh quindi mi chiedeva tanto mi sta seguendo lo stesso Natale praticamente il fatto dove trovare il link per scaricarlo lo trovate sul sito Roland eh esiste la versione download appunto in tre blocchi di VersaWorks 6 eh pronto per essere installato su le macchine che avevamo visto prima sul sulla lista ok benissimo allora ritorniamo a noi al nostro VersaWorks facciamolo sempre in grande la finestra ok ho una cosa carina questa sto preparando un altro video che poi memorizzerò in maniera semplice eh Pierpaolo mi chiede un'altra domanda interessante mi chiede se posso pilotare il laser Roland no al momento no eh vale a dire mh purtroppo ancora sui laser no eh 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 Erox non funziona su Mac su Mac abbiamo un altro software o meglio tu puoi usare un driver ora farò vedere anche sta modalità però serve un pc di appoggio cosa significa eh significa che allora nell'apertura dei file allora il software lavora su pc bene windows 7 windows 10 eh anche le precedenti comunque ok eh caricare un file allora abbiamo visto poco fa eh la modalità di caricare un file su aggiungi lavoro alla coda questa è una modalità molto semplice molto veloce eh l'unica lo svantaggio è che posso caricare un lavoro per volta ok bene vediamo altre modalità quelle uno quello di eh praticamente aggiungere una lavorazione mettiamo di caricare due tre lavora allora posso aprire una cartella questa è una seconda modalità che molto carina utile quindi posso scegliere che so questi pdf eh scegliamo i pdf questi qua ok 6 e 7 bene lì faccio un drag and drop in questo caso mettiamo sulla vg 6 e 40 ok e automaticamente avviene il caricamento dei file uno dietro l'altro eccoli qua questi sono dei pannelli per la croce rossa benissimo avendo un vg 6 e 40 a questo punto i pannelli sono belli grandicelli questi qua mettiamo il caso che eh dicono ah belli sti pannelli che mi hai fatto eh mi potresti fare degli adesivi ok allora io posso selezionare tutti gli oggetti simultaneamente ok o fare quell'operazione che avevamo visto prima quindi prima di fare il drag and drop andiamo a cambiare la coda in modo da mettere le impostazioni quindi le possiamo fare prima o dopo in questo caso che avevamo già caricato e quindi è una richiesta che mi arriva successivamente ho creato un nesting ossia una nidificazione di tutte le lavorazioni in modo da selezionarle perché dobbiamo ricordare sempre di selezionarle tutte quante scegliendo in questo caso il 25 per cento del formato originario un riadattamento quindi questa iconcina che va a ottimizzare le lavorazioni sull'area di stampa e eventuale rotazione o altro in modo da ottimizzarle qui adesso erano messe a ricordatevi che potete anche spostarle singolarmente in ogni caso terrà conto di quella che il posizionamento dei vari oggetti in questo caso con questa iconcina che ridispone i pannelli la vedete qui in alto consente di ridisporre i pannelli in modo da ottimizzarli nell'area di stampa ok ritorniamo a questo fra poco ma giusto se vogliamo vederlo l'ultima cosa posso applicare il taglia limiti ma bordi immagini direttamente ai pannelli appena caricati con il drag and drop allora abbiamo visto prima operazione di caricamento un file con l'aggiungi lavoro alla quota la secondo drag and drop vediamo un altro che è molto interessante fa parte appunto di quelle funzioni un po particolari diversa works in questo caso vorrei farlo sulla coda b del meglio coda c facciamo ok sempre del vg 2 6 e 40 sulle impostazioni della coda c vi faccio vedere questa opzione praticamente sulle impostazioni della cartella di input versa works lavora con cartelle di input praticamente ci sono delle cartelle se mi fermo un attimo qua sopra appare il nome completo che program data roland di g versos quindi quando vi fermate avete l'indicazione di dove si trova printers vg 2 640 input c perfetto io posso cambiare questa cartella mettiamo che la cambio in cartella stampa che ho nel desktop quindi seleziono quella cartella quindi la coda c questo momento è legata a quest'altra cartella cosa significa che dal momento in cui un file verrà posizionato nella cartella stampa quindi facciamo questo esperimento vado su desktop cartella stampa una cartella vuota e incollo quel file guardate un po che succede il file arriva e il file scomparse e appare da questa parte quindi viene ciucciato dal sistema che lo va a elaborare ora questa operazione credetemi è molto interessante molto molto interessante perché perché ci consente di fare delle operazioni di velocizzazione di che tipo mettiamo il caso sul flusso di lavoro che fate normalmente quindi andate a elaborare un lavoro siete col vostro software preferito va bene metto il caso che dovevo stampare la grafica quella che ho preparato per questa live che stiamo facendo adesso e volevo farmi un pannello di 20 centimetri ok benissimo ora posso posso mandare in stampa quindi seleziono questi oggetti li mando in stampa li mando in stampa dove li mando in stampa scegliendo il plotter che ho nella mia lista di driver perché quando avete installato versa works avete pure caricato il driver del plotter quindi se andiamo a vedere tra i plotter c'ho una lef 300 lef 300 vediamo un po perché non essendo in laboratorio possa avere una incongruenza tra infatti c'ho lef 2 lef 2 mi sa che non lo posso da no c'ho la vg2 640 c'è perfetto quindi usco la vg2 640 dove gli dico la pagina corrente ok vado in anteprima di stampa quindi vado a vedere la mia anteprima e in questo caso andandola ad adattare quindi sul formato dando io le dimensioni eccetera quindi non so adesso a fare discorsi delle dimensioni mando in stampa e quello che succede se tutto va bene quindi se il driver è agganciato correttamente eccolo qua abbiamo ottenuto il caricamento del file visto una sorta di flashata però non eccolo qua perfetto vedete si è caricato in questo caso ho usato il caricamento del file usando il driver di stampa mentre per chi non ha il driver di stampa o un computer in rete cioè ipotizziamo una cosa un po più complessa potrebbe sfruttare quel sistema della cartella condivisa che abbiamo visto poco fa quindi la cartella è condivisa diventa una cartella di rete quindi io vado sempre con il mio software ma in questo caso non stampo bensì esporto per esempio in pdf dove sulla cartella stampa quindi sulla cartella stampa cosa succederà che il file arriva su quella cartella versa works interpreta ciò che arriva in quella cartella specifica e lo va a rielaborare avevamo detto che era vedete eccola qua e ha caricato tutte e quattro le pagine del pdf ottimo capite la bellezza di questa operazione quanto vi può far guadagnare in fase di tempo logicamente il pdf va a essere impaginato con le pagine multiple anche qui potrebbe essere un altro trucchetto ma ne parleremo poi nel seminario quando parlerò di dime di utilizzare pdf a pagine multiple per inserire in ogni pagina un'informazione specifica per esempio la prima l'ingombro la seconda il colore la terza il bianco e così via in ogni caso io posso decidere quale pagina stampare per esempio voglio stampare solo la pagina 2 3 ed ecco che ho applicato la mia impostazione sul pdf cosa interessante è questa mettiamo il caso e qui lo vediamo al volo di fare due copie per ognuno però il cliente vi chiede pure una copia doppia come grandezza ora normalmente capite qui l'avevamo fatto dal l'altro software dovremmo aprire il file rilanciarlo nessun problema abbiamo una funzione nuova che è duplica quindi io duplico il lavoro eccolo qua perfetto a questo punto quello duplicato con quell'altro li vado a fare un nesting assieme vado a riaprire il secondo lavoro che era semplicemente duplicato eccolo qua dove invece ecco andiamo sul layout invece di due copie come avevamo detto prima facciamolo una copia però al 200 per cento quindi anche l'altro al 200 per cento perfetto benissimo quindi se di questi qua invece di due copie ne vogliamo fare degli altri come vedete man mano il sistema va a riadottare il formato in modo da ottimizzare quello che è il formato di stampa più volte cliccate più l'algoritmo farà delle elaborazioni appunto su il nesting bene domande su su questo sul nesting ci sarebbe da dire dell'altro però cerchiamo di vedere delle altre funzioni ora vedo questa immagine ne approfitto questa è un'immagine che può essere interessante da stampare per un background per una carta da parati per esempio potrebbe essere anche oggi si stanno a fare le mascherine con una texture particolare bene una funzione poco utilizzata però molto interessante e sul lavoro la funzione muovi e ripeti praticamente se è un pattern di quelli che hanno la ripetizione ossia il punto sinistro poi combacia col punto destro vedete l'ombrello o la borsa marrone che combacia qualche giorno vi farò vedere come realizzare questo tipo di grafica io posso assegnare l'informazione dell'uscita mettiamo che mi serve un metro quindi metto mille per mille e automaticamente il file viene ridisposto sulla grandezza di mille e viene tagliato già a mille anche se quell'elemento lì capite non faceva parte della grandezza originale del file questo è il nuovo e ripeti è proprio nasce per creare dei file orientati per il textile ma capite che anche qui si può aprire a una quantità di mondi infiniti alessandro sì assolutamente la cartella può essere proprio sul nas anzi è quella che consiglio di fare tra l'altro una cosa che che ho fatto e che vi faccio vedere pure adesso che derivata da un amico che era venuto a un corso qualche tempo fa mi ha detto sai cosa faccio io dico che figata non ci avevo pensato guardate un po qui input a input b input c messo su accesso rapido capite a portata di mano le cartelle dell'input in modo da non usare la cartella stampa come ho fatto poco fa ma utilizzare la stessa cartella originaria quindi io uso la stessa cartella diversa works se volete vi faccio vedere dove si trovano si trovano su program data dovete abilitare la visualizzazione delle cartelle nascoste roland dg versa works versa works printers la vostra stampante quindi mettiamo quella vg 2 6 40 che avevamo visto prima e qui abbiamo input a b c d e eccetera quindi che significa che io qui posso fare un drag and drop dentro le cartelle rapide in modo da averlo a portata di mano tra l'altro dentro queste cartelle voi trovate i lavori che ho caricato su versa works quindi quello che sono le code sono qui dentro quindi cosa c'è all'interno l'ultima che avete visto 5 minuti cdr quella che ho mandato in via diretta no in stampa diretta in effetti lui cosa ha fatto ha creato un file post script eccolo qua ps un file roland versos che tene conto delle impostazioni numero di copie come sommesse quale profilo sto utilizzando cioè tutte le impostazioni diverse sono scritte qua è un file che lo si può pure leggere quindi come vedete l'ho trascinato in un block notice ed è in effetti un xml xml è un formato web caso mai ve lo faccio vedere giusto per farvi capire come come è combinato un xml quindi andiamo qua sulla cartella e lo trascino su questa pagina eccola qui no lo dovrei salvare dai prossimo giro comunque è un xml ossia un file che contiene le informazioni non criptate sono proprio a vista quindi poi il layout e il preview questi sono gli elementi che ogni job ogni lavorazione va a avere memorizzato nel caso in cui ci sia il taglio o altro mettiamo questo qua del bollino c'è il cat pat vedete il percorso di taglio oltre altre informazioni quindi molto interessante perché praticamente se volete voi potete copiare queste cartelle anche quando il software va ad avere una sua ripristinazione anzi qui ritorno a una cosa che capita e che è giusto dirmi quante volte vi è capitato un blocco di versa works ossia tipo non legge un file il jpeg da problemi il tif inizia a traballare si blocca salta eccetera bene in questo caso vi consiglio di andare a applicare la funzione che troverete nel gruppo di programmi diversa works quindi andando appunto su versa works inizializza applicazione ora non lo faccio perché non ho i plot installati qui vicino perché devo digitare anche il l'indirizzo di rete inizializza applicazione praticamente come dico durante i corsi porta alla miera la versione diversa works come altra cosa importante l'aggiornamento online dove facendo click va sul server e logicamente qui ti dice versa works aperta devo chiuderla va a cercare la nuova versione io ho una versione da aggiornare sono 185 mega e quindi aggiorno la versione ora nel caso in cui voglio portarmi delle code e rimetterle a posto io potrei salvarmi quelle code in modo da riportarle appresso ma c'è un altra altri modi per salvare le lavorazioni allora ve ne faccio vedere alcuni vediamo su una lavorazione un po ok mettiamo il caso questa dei bollini anzi sui bollini vi faccio vedere due cose sulla versione nuova che sono interessanti quindi doppio clic abbiamo caricato un bollino fa parte di quel gruppo di lavori della croce rossa eccolo qua era un bollino chiudipacco questi lavori fatti così per beneficenza per appoggio al lavoro che stanno facendo un po i nostri medici la croce rossa infermieri quindi una mano d'aiuto diciamo non non fa mai male un bollino non si nega nessuno ok allora qui per esempio sono 58 bollini erano quelli che mi entravano sulle due righe di un metro di materiale perfetto ora metti il caso che dovevo fare mille bollini già sappiamo che se mettiamo mille qui il sistema mi dava come massimo 250 ecco oggi versaworks c'è altra cosa non so se vi ricordate che usavo la funzione personalizzato ve la faccio rivedere per chi ha anche le vecchie versioni diversa orso ok quindi mettiamo il caso non vedi la schermata c'è ragione florino scusami eccola qua perfetto grazie meno male mi ero dimenticato di tremere un pulsantino tutto qua perché uno deve fare regia parla io me la canta e me la sono come si dice in sicilia quindi prepari il corso farlo e poi controllare pure la regia che mi vedete ogni tanto alzare la testa appunto al secondo monitor che mi fa da regia grazie florino bravo hai vinto anche tu qualcosa non so cosa ti spedirò che sono mascherina che sto preparando adesso con il pattern di guerra stellare o robert un saluto da barcellona ciao robert bene guardate qua mettiamo il caso che devo fare 200 bollini ok cosa succede il sistema mi andrà a preparare di 200 bollini ma già sappiamo che il taglio al registro potrebbe dare dei problemi a suo tempo vi dicevo di usare la funzione taglio personalizzato dove oltre i mille che avevamo detto prima davo anche una altezza in modo da splittare le lavorazioni in questo caso da 70 mm quindi a 7 centimetri avrò prima due righe prima due righe due righe due righe perfetto questo mi aiutava tanto perché avrebbe stampato le prime due righe tagliato le prime due righe molto più tranquillo molto più pulito molto più fluido anche come lavorazione ossia se si inciampava il materiale mettiamo il caso avrei perso solo due righe questo è un'opzione molto interessante adesso mettiamo il caso di appunto avere quelle 50 bollini anzi mettiamole sempre all'altezza da mille quella che avevamo fatto prima erano 58 ok 56 57 58 perfetto guardate un po dal momento in cui mando in stampa praticamente mi dice quante stampe vuoi fare figo cioè gli dico mandamelo a sto punto visto che ne devo fare 500 10 volte 560 copie perfetto quindi le stampe saranno fatte sempre al singolo blocco questo è molto utile appunto per evitare per ottimizzare le stampe multiple o ma dal momento in cui ho fatto questa lavorazione e la voglio salvare in quanto mi può capitare che la croce rossa mi richiede i bollini io posso usare il salvataggio in tre modalità ve le faccio vedere tutte e tre prima modalità salvo lo metto qua sulla cartella live academy croce rossa bollino formato file di lavoro il file di lavoro praticamente imposta semplicemente il layout il numero di copie cioè quelle informazioni legate alla lavorazione altra modalità di salvataggio eccola qua è file di lavoro più sorgente quindi è sempre roland versa works rimane invariato l'estensione però in più al suo interno come vedete ha scritto qualcosa c'è pure le ps ps pdf che aveva generato c'è il bollino originario ottimo ma c'è un altro che ancora più interessante che il prt prt praticamente salva e memorizza la stampa come vedete sta andando e stampa quindi va in stampa e memorizza la stampa quindi è una stampa salvata su file è quello che è praticamente un file grezzo che io posso andare a rendere in stampa usando la funzione invia file nativo da questa parte ottimo questo è molto bello molto interessante o ora qui potremmo iniziare a discutere pure sulla parte di colorimetria anche se ci sarebbe da fare un discorso molto più alto molto più ampio e probabilmente destinerò una un'altra oretta di di queste dirette proprio su quell'argomento legato appunto al alla colorimetria colorimetria mentre do un'occhiata all'altra pagina sui vari commenti che mi arrivano ok c'è luca le cose gli piace da morire ci mancherebbe non riesce a mettere i crocini su ogni riga su ogni riga praticamente i crocini su riga eccoli qua e come si fanno o con il taglio personalizzato come avevamo fatto prima o con questa nuova funzione molto molto interessante vediamolo sempre con questi bollini facciamolo in più o più grandi aumentiamo i bollini al 300 per cento e a questo punto quando seleziono i crocini di registro per l'allineamento stampa e taglio avrò diverse modalità la prima è tutta l'area vale a dire mi stamperà i crocini qui in alto e in basso alla lavorazione ma adesso ci sono altre due opzioni per ogni riga è uguale a e già ben lì disegna vedete e in questo caso è esagerata la cosa però ve lo faccio vedere per ogni inserimento date praticamente ha fatto un crocino per ogni lavorazione bella sta cosa molto interessante soprattutto per ogni riga e quindi risolviamo la problematica che aveva detto poco fa l'amico emanuel se non erro ok vado a rivedere il nome no luca 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 perfetto luca ok questo già ti aiuta spero che sia questo quello che volevi sapere perfetto questo per quanto riguarda i crocini ricordate tutti cosa sono i crocini devo fare un ripasso pure di questo dai crocini di registro stampa e taglia quindi il crocino va in stampa dopodiché faccio le mie lavorazioni tipo laminazione o altro rimetto in macchina il rettangolo è la parte frontale destra quindi quella vicina al carrello e avviene una fase di lettura dove avverrà la funzione di solo taglio secondo step ok quindi la prima volta stampa la seconda volta solo taglio o che carino l'avevo fatto apposta volevo farvi vedere questa cosa non mi sembra un'anomalia che manca un pellettino sulla chiusura di sto cerchio sì è un'anomalia non è corretto praticamente il cerchio non viene chiuso in fase di taglio mancherà un pellettino nel caso in cui era un rettangolo un rettangolo in questo caso praticamente tutta la linea non sarebbe tagliata come faccio a risolvere questa problematica la faccio e conviene farla dalla coda impostando sulla coda un valore sul impostazioni eccole qua del margine ps per esempio da 0.2 mm 0.2 praticamente quello che ho assegnato è che quando apri un file post script aumenta il margine di due decimi margine non il file perché questo perché può capitare nella conversione della virgola mobile che il vettore coincida di taglio coincida con il bordo della lavorazione e quindi a secondo se la virgola entra o mentre aprendolo da versa works può essere che quel vettore vada all'esterno quindi si trovi fuori pagina e voilà non appare non viene tagliato non viene tagliato uno spezzettino ecco con quella piccola opzione possiamo sistemare tutto per paolo mi chiede se i crocini quelli che abbiamo visto poco fa sono compatibili col tavolo valiani e il valiani in effetti legge dei quadrati anche se posso impostare cerchio quindi io ti posso dire sì nel senso che il valiani a tutti gli effetti cerca dei cerchi però cosa succede per fa che per il valiani tu devi andare a generare un svg quindi un file vettoriale del solo taglio compresi i rettangolini dei crocini a sto punto conviene creare rettangolini tante un retta un quadrato da un centimetro stampato in nero punto quindi io lo decido a monte sulla grafica esporta in stampa il quadrato per stamparlo e in esportazione seconda esportazione quella del taglio seleziono quei quadrati più il vettore solo il vettore di taglio quindi comunque non è una problematica è molto semplice i crocini di possa andare anche a rigenerare abbiamo fatto degli script per generarli anche per l'offset quindi potrei fare come ho fatto a suo tempo per questo lavoro che vedete che quello del guavometro che c'era una versione con i crocini in modo da stamparlo in cartoncino e poi tagliarlo col plotter da taglio in questo caso era per renderlo un pochettino a modi gioco ok bene allora avevamo visto i salvataggi beh un po sulla colore qualcosina sul colore si dai vediamo al volo una cosa sul colore sono già meno 20 cavolo quindi a questo punto invece mi sa che la colorimetria poi la tocchiamo appunto su quando parleremo un po più approfonditamente di colorimetria però una domanda che mi fanno in tanti è classica tipica e ma quanto mi corsa sta lavorazione ora scegliamone una può essere quella dei bollini o bollini molto semplificata o che ne so vediamo un po tra le varie lavorazioni avevo fatta una pure qua vediamo sulla vg 540 perfetto ottimo qui avevo trascinato una cartella dove queste immagini scaricate da instagram le ho trascinata dentro l'ho portata al 50 per cento e gli ho dato pure il taglio esterno quindi un profilo di instagram quelli che adesso stanno andando po per un po tutte le città ce l'hanno no il poi vorrei poi vorrei non so se li avete seguiti poi vorrei fare un aperitivo poi vorrei farmi una passeggiata oppure vedere l'alba e così via un poi vorrei che è molto carino quindi l'idea di fare degli adesivi ottimo questo è quello di san benedetto del tronto quanto mi costano sti adesivi a figata quindi dal momento in cui ho creato gli adesivi anzi visto che di questi adesivi ne vorrei fare di più mettiamo che ne voglio 5 copie per tipologia di adesivo ok quindi seleziono tutto eccolo qua anzi il primo che avevo detto 5 lo riporta 1 così lo facciamo per tutti ok quindi seleziono eccole qua e facciamo 5 quindi ben perfetto ok quanto mi costeranno questi adesivi ora se vado in rip lo rieseguo perché ho cambiato le impostazioni devo anche la frase di pierpaolo che era rimasta grazie gialluca ti voglio bene gialluca mi aveva chiesto ieri sera mi aveva chiamato dice ma sai ho un problema per mettere le note questo te lo dico subito che lo facciamo al volo mentre che sta ripando questa lavorazione e gialluca mi diceva c'è sta lavorazione ok vediamo qua coda una di quelli che avevo fatto coda uno di quelle già aperte vediamo questa con vg 5 e 40 no solo 6 e 40 l'ho fatto ok quindi qua perfetto allora mettiamo sto lavoro qua anche se non è quello con ok qualsiasi sia il lavoro il problema di gialluca era di mettere le note in alto perché se vado a prendere le impostazioni delle proprietà del lavoro quindi dove assegno le note farsi pagare subito questa è una nota che dovete mettere sempre ora sulle proprietà del lavoro ok l'impostazione della nota qui è laterale vedi sulla destra se ruoto il lavoro di 180 gradi è sopra in effetti sarà scritta sotto sopra perché la stamperà sotto quindi perché ti serve da mettere in alto perché la vuoi vedere sopra davanti o cioè la nota è legata al file quindi ruotando il file io la vado a posizionare dove meglio credo nel caso in cui non ti piace sta storia la vuoi in dritto però sotto potresti fare l'operazione di quindi prendere la lavorazione questa qui quella che abbiamo fatto dunque siamo sulla 640 eccola qua di duplicare la lavorazione quindi faccio una duplicazione della lavorazione dopodiché il lavoro duplicato vado a fare sul secondo lavoro un crop quindi vado a tagliarlo al minimo l'accoppiamento l'accoppiamento deve vedere il nome del cliente allora Gianluca mi dice che sull'accoppiamento vuoi vedere il nome vabbè fallo sotto sopra e sei apposta a sto punto fallo sotto sopra dovrebbe essere già tutto ok che quest'altro in effetti è un po' più macchinoso quello il sistema è un po' più rognoso ok ora casmai lo riprendiamo oh vabbè è particolare Gianluca quindi ora ci iscriviamo ci iscriviamo perché poi i casi singoli sai ognuno c'è una cosa molto particolare alcune cose sono sul software sono fatte per tutti però ci sono situazioni un po' anomale strane particolare che sarebbe meglio andare a ottimizzare stavamo dicendo che adesso ho fatto ripare questa lavorazione qua su vg 5 e 40 perfetto la cosa bella è che sulla visualizzazione ho il registro lavori quindi io vedo tutte le lavorazioni fatte tra cui la nidifica lavoro che ho fatto adesso che ha finito il rip che ha un consumo di inchiorso di 5 e 97 l'ho fatta 15 e 46 perfetto quindi mi dice tutte le informazioni cosa interessante è che questi file io li posso queste informazioni posso salvare il registro vale a dire queste righe che vediamo le posso salvare in formato lui le salva in formato csv csv ora a secondo delle righe che vado a selezionare ok quindi se non seleziono niente esporterà tutto a meno che seleziono io tipo voglio questa e quest'altra esporto corso lavorazioni 2 mettiamo perché l'avevo salvato uno prima e ottengo un file csv con le informazioni in questo caso 597 consumi ora le informazioni consentono anche cioè consistono in tutto quello che ci può servire a livello informativo vale a dire il numero di copie le cose cioè c'è veramente tutto quindi quanti oggetti sono qua sulla lavorazione so tre copie ok per andiamo qua sul foglio elettronico del costo delle lavorazioni e posso andare a importare quella riga che contiene tutto quanto ne avevo fatto prima una qua che era su ah su quegli oggetti là che erano 58 58 il consumo era di 5,799 quindi 5,8 va benissimo quando è stata stampata eccetera quindi tutte queste informazioni benissimo a questo punto potrei farmi un altro fogliettino dove metto quanto costa eh la cartuccia del vg2 da 500 cc 90 euro benissimo quindi costo per cc è eh il costo diviso 500 cc ossia 0,18 quanto ha consumato per quella lavorazione 5,8 cc quante copie erano? 58 quindi tutta la lavorazione è un euro ogni copia è un foglio elettronico banalissimo è 0,02 quindi io con un semplice foglio elettronico riesco in pochi secondi ad avere sotto mano quella che è il calcolo eh della lavorazione in modo da essere tranquillo su quello che il consuntivo da fare è non perderci quindi logicamente questo è il costo copia legato al consumo inchiostro non ho messo materiali tempi eccetera però è interessante in quanto qui era solo i tempi di rip eccoli qua però ho anche i tempi di stampa quindi posso mettere anche la variabile tempo stampa ho un'informazione che è sui size quindi la grandezza i metri quadri o meglio millimetri quadri in questo caso questo significa che ho delle informazioni quanto materiale ho consumato capite? cioè io in un foglio elettronico mi ritrovo tutto quello che può essere utile per poter fare un consuntivo questo penso che sia una funzione molto importante intelligente e utile per tutti voi che usate che lavorate conversa forse che dovete fare i conti fine mese quindi andare a vedere quanti lavori avete buttato perché molte volte anche qui l'analisi del lavoro della copia buttata normalmente non viene fatta quanti sprechi c'hai anche il calcolo potresti fare in base ai metri quadri e i metri di stampa effettivi di quanto sfrido hai avuto di materiale questo se vogliamo andare un po' a fare il lavoro di fino io da parte mia ve lo dico sempre che dovete lavorare sulle nicchie cercando di valorizzare quello che fate però se risparmiate del tempo risparmiate dei soldi conoscendo lo strumento come Verseworks per lavorare in maniera ottimale beh la cosa non fa mai male anzi credo che sia la cosa giusta da fare allora io direi di non chiudere però di fermarmi qua perché sennò cioè io non ho parlato né di supporti né impostazioni stampante perché anche qui su esplora supporti apriremo veramente una quantità di informazioni per quanto riguarda i profili eh che credo che meriti proprio una sessione a sé stante anzi ditemi voi sui commenti se continuiamo su sta strada quindi riprendiamo VersaWorks andando più in profondità eh vi ricordo che eh online il corso su VersaWorks legato alla creazione di file con effetti speciali e logicamente come mandarli stampa con VersaWorks questo lo trovate eh ce n'è un altro su eh vabbè ce ne so tantissimi li trovate sul canale youtube Roland in questo momento li stiamo anche elencando e mettendo allineati per voi ok commenti ragazzi a voi vado a vedere pure sullo smartphone eh qualche commento che mi arriva da quest'altra parte ho un po' di saluti da Luca da Marco da Carlo eh Luca eh devi aggiornare VersaWorks per avere quella funzione eh su VersaWorks.6 6.2.3 ok da quella versione puoi vedere quello ok ok cosa mi dite? commenti? niente? tutto tranquillo? tutto a posto? grazie Massimo grazie a te di aver seguito questa diretta eh io al solito cerco di mettere un pochettino le informazioni acquisite eh a volte ce n'è anche tante da da dare però spero che queste dirette siano utili per tutti voi soprattutto in questo momento in cui non ci possiamo vedere dal vivo sapete quanto mi piace eh giracchiare e andarvi a trovare quindi grazie a te Gianluca poi ci risentiamo eh via Whatsapp scrivimi così vediamo di aggiornarci perché devo capire bene mi devi mandare eh un po' quello che vuoi come risultato finale eh Florindo vuoi sapere grazie Giorgia eh riprendo quella di Florindo che dice come installarlo senza periferiche o ehm c'è un barbatrucco Raffaele non ti preoccupare Raffaele non ti preoccupare è tutto registrato lo puoi rivedere tranquillamente anche quando sei a letto così fai incazzare pure tua moglie non è vero sarà contenta di questo salutemi pure Mario eh sì il software è bello Florin proprio carino proprio bello eh grazie Dina la prima volta dai c'è sempre la prima volta Dina sono contento che e questa era quella più sobria che ho fatto eh perché altre sono un po' più mattarelle mattarelle benissimo eh sì è molto articolato è veramente veramente c'ha tanta roba all'interno e la versione 6 è piacevolissima da utilizzare ancora più bella voglio rispondere a Florindo perché allora vedi questa impostazione qua Florindo della LEF 300 VG2 e VG e J ecco io questa mattina non avevo questa impostazione vale a dire non eh avevo una LEF 2 300 e mi ricordo una LEC che erano le ultime periferiche che avevo caricato sul mio VersaWorks però mi piaceva far vedere qualcosa con la VG2 non avevo la VG2 ieri ho visto un video del mio collega ehm inglese Joe della Roland Academy che aveva queste macchine installate e quindi gli ho detto Joe mi mandi questo file e quindi Joe mi ha spedito il file ehm via WhatsApp via mail non mi ricordo cosa ho fatto l'ho sostituito al mio file e magicamente sono apparse le periferiche vi faccio vedere il file quindi apro apro e ingrandisco le cartelle per farvi vedere dove si trova praticamente i file i file di lavoro cioè si trova su program data su VersaWorks Roland VersaWorks eccolo qua VersaWorks device device e c'è questo file che si chiama device info device info praticamente contiene le informazioni delle periferiche del mio sistema quindi se io sostituisco il file device info da un computer all'altro avrò le periferiche che sono elencate appunto su questo file device info ho fregato in qualche maniera VersaWorks in modo da installare le periferiche senza averle a portata di mano e salutami Mario Raffaele logicamente e Giuseppe mi chiede se si può installare sul vs 420 al solito Giuseppe guarda c'ho una memoria che mi perdo quindi vado a vedere praticamente poco fa avevamo visto la pagina con la lista delle periferiche quindi vs anche se non c'è scritto qua però 420 era tra quelle comprese qui non la trovi vs 420 hai detto vs 420 con finale cosa Giuseppe vs 420 c'è un finale i vi cos'è che dipende da quello comunque la lista la trovate sempre sulle varie pagine tra l'altro vi consiglio quando avete un dubbione di qualsiasi tipo eh non vi ho fatto vedere oggi il dato variabile ho fatto una diretta proprio parlando di dato variabile quando abbiamo fatto le etichette per l'ospedale di vi mercate per i tamponi del covid con il codice a barra anche qui figata fatti con VersaWorks e hanno aiutato pure pure loro eh i nostri medici esiste nella guida la due voci molto interessanti il VersaWorks Online e il Manual Library praticamente VersaWorks Online hai eh una visualizzazione di di quelle che so le informazioni di VersaWorks ok e eccomi qua non lo state vedendo in questo momento mi è andato su un'altra e quella ancora più interessante è il Manual Library ve lo apro qui così riuscite a vederlo perfetto Manual Library praticamente tu puoi cercare per nome per categoria quindi per nome quindi WS 4 e 20 WP 4 e 20 vediamo si sceglie e puoi scegliere installazione user guide manuale d'uso per Macintosh e altre informazioni legate a la categoria che vado a cercare mentre quello che vi facevo vedere prima era praticamente la guida di VersaWorks online adesso si è aperta correttamente ok dove parte dal free update del software ma abbiamo pure tutte le informazioni di questo è sul download ok tutte le informazioni di VersaWorks a portata di mano quindi su mostra guida in questo caso dove ogni operazione tipo aggiunta di segni di ritaglio e segni di margine ecco qua passo passo ti dà le informazioni ben fatte sono fatte da giapponesi sono messi là con la loro pazienza nipponica hanno creato questa guida online che è molto molto utile leggo quello che ha scritto Pierpaolo quindi questo modo di condurre i tutorial è il più facile da seguire nel senso che immagino che ne stai a segui tanti Pierpa cioè fatti in questa maniera più dinamica dove c'è un po' di dialogo pure con voi spero che sia quello anche se c'ho un 10 secondi di split tra quello che dico io e quello che state vedendo voi quindi quando provate a fare il quiz dove sulle domande avevo 15 secondi di tempo avevate solo 5 secondi per rispondere la prima volta ho iniziato facendo un quiz però questo quiz lo riprenderò quindi prossimo giro mi sa che faremo il quiz che è divertentissimo con un premio logicamente decideremo un premio molto figo e questo mi piacerebbe farlo assolutamente sì quindi ditemi e scrivetemi a questo punto nei commenti se volete che continuo adesso sempre con VersaWorks andando a continuare a vedere quelle che sono le funzioni di VersaWorks ok? io penso che è una strada carina da seguire a me piace pure e di cose da vedere ce ne sono tante perfetto Pierpaolo non metto questo commento perché mi ha detto che alcuni portano al sonno vabbè pure io ne sto seguendo tanti di tutorial webinar e roba varia in effetti ce ne sono tanti io preferisco la diretta diciamo che è più è più pericolosa perché non sai mai quello che ti può capitare però sono un funambolo digitale e quindi mi piace così fare un po' di variantatura anzi mi è venuta in mente di fare una diretta di 3-4 ore dove non per forza bisogna seguire eh ma mi metterò a disegnare e man mano che ricevo sui commenti eh continuerò a disegnare quello che direte voi sui commenti è un esperimento uno di questi giorni lo faccio grazie Fabio io eh continuo su sta strada e quindi sono contento che eh ti piaccia e vi piaccia benissimo ok allora un abbraccio virtuale a tutti quanti quindi alla prossima eh penso che domani ho l'altra puntata quella per i ragazzi il corso stream per giovani artigiani tecnologici abbiamo parlato di grafica vettoriale che poi ho ho saputo che eh tanti di voi l'hanno seguito e hanno detto cavolo ma questa a me serviva perché tipo l'ultima sulla stampa 3D eh ho dato un po' di trucchi di software per disegnare in 3D e come stampare in 3D eh parleremo di codice quindi di coding eh questo lo faremo domani pomeriggio ok sempre alle 3 sempre col vostro zio Giovanni eh con la Live Academy e Roland che anche in questo caso è al vostro fianco ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti